Minuto 89 e 40, 3 a 2 per il Napoli No, 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 gli ultimi 10 minuti non sono stati da Napoli perché gli ultimi 10 minuti non puoi prendere quei due gol in quel modo posso capire un gol del 3 a 1 nella mischia a linea e mezzo si trova Neskorozki se non sbaglio e la butta dentro ma il 3 a 2 in quel modo no, Kim Lee è stato troppo, troppo ottimista secondo me intanto 4 minuti di recupero, finiamo subito questa partita andiamo subito, poi ci rivediamo dopo il mondiale ci stiamo schiacciando troppo ma sbagliano loro bravo Politano, fallo andare fuori, perdi tempo allora, primo tempo, 2 a 0 per il Napoli gol di Ossiman, gol di Zerischi, secondo gol consecutivo poi nel secondo tempo, Napoli una macchina da guerra siamo una macchina da guerra, questo bisogna dirlo siamo una macchina da guerra e incredibilmente potrei dire perché il Napoli poi fa il 3 a 0 e che 3 a 0 con Eli Felmas poi c'è stato quel momento di blackout ma signori, questo Napoli fa paura fa paura forse il 3 a 0 ha un po' spento la spina al Napoli ma se Silvestri non faceva due miracoli stava tranquillamente 5 a 0 il Napoli anzi, anzi, 5 a 0 che forse ci stava anche stretto per tutto quello che ha creato il Napoli in questa partita ora qualcuno dirà eh, avete avuto culo con l'Udinese ci avete avuto fortuna eh ragazzi, per ora, per ora minuto 91 e 20 manca due minuti tre minuti e mezzo all'incirca ce la stiamo portando a casa oh, vedi a Mario Rui ah così, da centro campo, Mario Rui aiuto, dai, dai che sofferenza però, che sofferenza ve l'ho detto, sembra di rivedere il Napoli della passata stagione dove faceva quei 10 minuti di blackout e Kim ragazzi non mi è piaciuto oggi, eh Kim non mi è piaciuto sono sincero nel primo tempo ha fatto una bellissima partita anticipi, colpi di testa li prendeva tutti lui è il mass, è il mass, è il mass Luciano, questa è pure colpa tua Luciano non si cambia il difensore centrale non si cambia mai non si cambia mai è cambiato pure Olivera io non ho capito perché non ho capito perché questi cambi non ho capito doveva cambiare Laghiu tutti in attacco punizione per Ludinese occhio Aghiu occhio occhio uno schema occhio palla in mezzo salta Osticard la prende Osticard via per lei la Livia doppia nonna mia fuori fuori rinvio dal fondo uff maronna mia Aghiu tre rimballi tre rimballi Aghiu tre rimballi maronna mia maronna mia la te ha bendata Aghiu pure la te ha bendata ci si mette meno male Aghiu meno male un po' di fortuna meno male guarda lì guarda là la tocca il giocatore dell'Udinese calmi calmi Victor calmi calmi Aghiu calmi mamma mia che sofferenza che sofferenza l'ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa Aghiu non è una partita trappola è una partita difficilissima è una partita difficilissima perché l'Udinese è la squadra che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio l'Udinese e oggi oh Don Belè perché torni perché via sopra in avanti questa palla dai un minuto madonna mia quanta sofferenza oggi troppa troppa per questi dieci minuti così buttati al vento non fare pallo game non fare pallo bravo l'Opotka bravo l'Opotka ora su vai ma sonnaccio un pochino troppo lungo l'ultimi 30 secondi ultimi 30 secondi calma dici ma che ti vuoi calmare ma che ti vuoi calmare ma che ti vuoi calmare attenzione Kim di testa via l'Opotka via angissa via via questa palla via via maronna mia gli ultimi dieci secondi di partita maronna mia mario è finita è finita cos'è rissa rissa perché contro mario che c'avete guarda che bastardo l'abito c'era il fischiatto in bocca stava per fischiare stava per fischiare stava per fischiare quelli dell'ultima si hanno fatto casino hanno detto ti faccio battere la rimessa laterale ma guarda che bastardo guarda che bastardoni forza vai forza ultima azione ma io via questa palla appena la prendete via questa palla se la riuscite a prendere via questa palla occhio occhio nel mezzo via fallo e fallo e fallo portiamo a casa tre punti fondamentali tre punti fondamentali alla faccia di tutti i gufi chi è chi sta da tenere tutti quanti lì glielo Diego a tutti quanti dimmi arrivo aspetta un attimo vieni qua vieni qua vieni vieni è finita è finita è finita è finita è finita buttala su buttala su meret buttala su buttala su è finita è finita 10 minuti di sofferenza finale però è finita salutate la capolista la capolista se ne va teneteci ci dovete inseguire quest'anno ci dovete inseguire tutto quanto inter milan juventus roma lazio fiorentino tutto quanto c'ha da seguire quest'anno legge della targa sempre e comunque forza napoli vamos